Si è conclusa l'ottava edizione del concorso di cucina Eraclio d'Oro, organizzato dall'Associazione Cuochi e Pasticceri della BAT e dalla Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori. Vediamo com'è andata nel servizio. Un concorso che premia l'innovazione senza intaccare la tradizione, una gara tra professionalità proiettati al domani e solide ricette che fanno parte degli archivi della cucina popolare. L'edizione 2023 dell'Eraclio d'Oro ha saputo per l'ottavo anno assemblare passato, presente e futuro dell'arte culinaria, confrontando chef arrivati non solo dalla provincia di Barletta, Andrea Tami, ma anche da Taranto e Foggia. Tre le sezioni, cucina calda, pasticceria e cake design, per le prime due ci sono state gare in categorie separate, tra professionisti e allievi. I temi hanno riguardato la valorizzazione della carne, dell'olio extravergine di oliva e il carnevale. E così tra preparazioni e sorrisi sono arrivati i vincitori che potranno accedere ai campionati della cucina italiana che si svolgeranno a Rimini dal 19 al 22 febbraio prossimi. L'Eraclio d'Oro è andato a un giovane chef originario del Gambia che ha unito nel suo piatto il paese in cui è nato alla regione che più di dieci anni fa lo ha accolto. Le verdure sono tutti italiane, sono cucinati italiani, anche il riso è italiano. Però sul riso ho messo il sapore un po' della mia infanzia, però le verdure sono cucinate in maniera italiana, sono tutti ingredienti italiani che mi rappresentano. Io mi rappresento sia africano ma anche sia italiano, tarantino, specialmente pugliese, perché io quando sono arrivato in Puglia dieci anni fa la mia vita è cambiata. L'Eraclio d'Oro diventa l'occasione per valorizzare la produzione pugliese e instradare i giovani verso il futuro da chef. Diamo la possibilità agli istituti alberghieri, i giovani, di mettersi a questo mondo che è un mondo bellissimo da parte mia e penso anche per loro, è un lavoro sacrificante, però alla fine quando ti arriva un cliente e ti dice bravo, ho mangiato bene e quelle sono le grossissime soddisfazioni. Il contest è speciale perché un solo ragazzo andrà a qualificarsi a livello nazionale. Questo ragazzo sarà selezionato e addirittura potrebbe anche fare il campionato a livello internazionale. Questo è quello che stiamo facendo anche noi a livello internazionale come Federazione Italiana Cuocchi.